Ciao ragazzi e benvenuti sul mio canale YouTube sulla mia pagina Facebook Oggi parliamo di un argomento che secondo me non viene trattato o meglio Sembra che ormai nel 2022 sia una rincorsa a chi fa l'esercizio più figo L'esercizio più segreto per fare questo e quell'altro Mentre secondo me alla fine quello che fa la differenza è la programmazione dell'allenamento Quindi al di là della programmazione dell'allenamento I contenuti che piace sviluppare a me sono cose che vanno un pochino fuori dall'ordinario Nel senso che secondo me non è che ormai bisogna inventarsi chissà quali esercizi Semplicemente molto spesso quelli che ci sono vanno semplicemente fatti Se una persona ha un salto troppo elevato da un esercizio all'altro Molto spesso la soluzione c'è già Perché secondo me nel 2022 non c'è più da inventare chissà cosa Il fatto che una cosa già ci sia ma non è nota È perché magari il canale o trainer che cerca di rendere la nota o che l'ha fatto Per esempio mi mettono nei miei panni tre anni fa Io tre anni fa non avevo i follower che ho adesso Con molte prove da ci sono una secchiata di cose che sono già state dette Quindi secondo me non bisogna inventare moltissimo Quello che si può fare è cercare di analizzare le cose e dare qualcosa in più Che per il momento non c'è Quindi all'interno di questo video voglio fare esattamente questa cosa Ossia vi voglio parlare di quelli che possono essere I requisiti a livello proprio di mobilità o meglio di elasticità dei tessuti molli Che caratterizzano l'esecuzione dei piegamenti in verticale Quando questi vengono fatti con le braccia più vicine Quindi una maggiore adduzione dell'omero E quando invece vengono fatti con le braccia leggermente più aperte Quindi con una maggiore adduzione orizzontale dell'omero Ora cos'è che contraddistingue di fatto queste due varianti L'attivazione muscolare perché più io porto il gomito diciamo vicino al piano sagittale Che è quello che mi divide la parte destra e la parte sinistra Più io utilizzo il deltoide anteriore Più io lo porto verso l'esterno più andrò ad utilizzare il deltoide laterale Quindi di conseguenza quello che succede è che Se io faccio questo avrò una maggiore adduzione dell'omero E una maggiore abduzione scapolare Se io faccio questo avrò un'abduzione dell'omero E una maggiore adduzione scapolare Quindi è abbastanza evidente cercare di fare qualche connessione Fare qualche piccolo unesso tra il movimento dell'omero Quello che fa la scapola Quello che si accorcia E quello che si allunga Quindi nel momento in cui io Desidero andare ad eseguire I piegamenti in verticale Con una maggiore abduzione delle scapole Quindi mantenendo Diciamo Il braccio che è più di fronte a me Di fatto Quindi davanti alla faccia Soprattutto nella parte bassa Maggiore l'abduzione della scapola Maggiore l'elasticità richiesta A livello degli adduttori delle scapole Ovviamente Non è che si può ridurre tutto Agli adduttori delle scapole Perché per esempio in questa posizione Aumenta l'adduzione dell'omero Un po' di elasticità Anche a livello del dettore del posteriore È necessaria Quando ovviamente Noi andiamo molto In questa posizione qua Quindi per esempio Quando andiamo in full rom Più noi lo facciamo profondo Più aumenta l'estensione dell'omero Passivo ovviamente Più è necessario Essere un pochino liberi Ok La gravità Vi dà un po' di aiuto Però ecco Se c'è una marcata L'assenza di estensione In particolare Tendenzialmente Cuffe dei rotatori Principalmente Il sottoscapolare E il capolungo del bicipite Che sono un po' ricidi La tendenza sarà quella Di tiltare la spalla avanti Quindi C'è il rischio di Forzare la spalla Disattivare un po' il dettore del anteriore E lavorare moltissimo Con i trapezzi E lì ve ne accorgete Perché Vi trovate l'atleta Forte nei piegamenti verticali Che ha le spalle così E ha i trapezzi così Quando invece Noi andiamo a lavorare qua Quello che succede È che ovviamente Le scapole Sono già un pochino più unite Ci sono altri requisiti Come per esempio In questo movimento C'è un maggior stiramento Del gran pettorale Quindi quello che io posso aspettare In questa posizione Qua bassa È sicuramente Che ci saranno Dei fasci del pettorale Che creeranno Un pochino più resistenza E attenzione Cosa molto particolare Perché questa qua È una cosa capitata A un mio allievo Se voi arrivate in questo angolo Perché li fate super profondi Questo angolo Quindi questo livello Di abduzione orizzontale Dell'omero E questo livello Di rotazione esterna Perché qua magari Abbiamo le mani È esattamente L'angolo di massima tensione Dei rotatori interni Principalmente Dico principalmente Il sottoscapolare Quindi quello che succede È che molto spesso Si arriva qua E qua si rischia Di fare questo E di portare avanti Le spalle In anteposizione Cosa che ovviamente Può succedere Anche quando si fanno Le trazioni Quindi sì È più semplice Andare ad anteporre In chiusura Se io faccio Le trazioni larghe Rispetto a fare Per esempio Le trazioni Con le mani Leggermente più vicine Quindi abbiamo visto Come in base Alla presa Che utilizziamo Ci possono essere Dei requisiti diversi Ed è importante Riuscire a capire Quindi Su cosa andare A focalizzare L'attenzione E In questo modo Riusciamo anche A tirare un pochino Le somme A chiudere il cerchio Se vediamo Che c'è un problemino E non riusciamo A venirne a capo Vi faccio un esempio Una persona Che durante i piegamenti In verticale Non riesce a mantenere Una posizione Leggermente Più neutra Del corpo Perché probabilmente Tende ad avere Le scapole Leggermente più aperte E quindi Il tratto toracico Potenzialmente Potrebbe essere Leggermente più esteso Perché anche Gli adottori Delle scapole Sono più rigidi E quindi Di conseguenza È più facile Avere un pochino Più di estensione Tratto toracico Quindi Ovviamente È un'analisi Sul movimento Che magari Può essere scontata Però come vedete Non vi ho detto Nessun esercizio Segreto È semplicemente Uno spunto Per farvi riflettere Su Quando una cosa Può creare Una limitazione In un certo ambito Niente di più Se vi è piaciuto Ragazzi Lasciate un like E noi ci vediamo Al prossimo video